Buongiorno, ben trovati appuntamento di martedì 6 marzo 2018 con la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani oggi in edicola, una giornata tutta incentrata sul post voto, sui commenti dopo i risultati ormai definitivi delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Dunque è una giornata dedicata alle riflessioni, anche alle polemiche, si guarda al presente e anche al futuro. Nel Paese si cercherà nei prossimi giorni e non sarà facile formare un nuovo governo. In Abruzzo ci sono le reazioni al risultato di queste elezioni, il risultato che ha visto la netta affermazione anche in Abruzzo del Movimento 5 Stelle. Il Paese tiene il centrodestra come nel Paese e anche nella nostra regione crolla invece il Partito Democratico. Ne parleremo questa mattina, vedremo anche dei servizi, commenti dei principali esponenti politici. Poi parleremo anche di sport in maniera dettagliata, soprattutto del Pescara perché dopo l'esonero di Zeeman ieri Massimo Epifani ha diretto il primo allenamento dei Biancazzurri e questa mattina verrà presentato alla stampa il neotecnico Biancazzurro Massimo Epifani alle 11.30 presso la sala stampa del centro sportivo Poggio degli Ulivi. Per problemi tecnici questa mattina non possiamo proporvi le pagine del centro, dunque partiamo dalla prima pagina del messaggero, ovviamente titoli principali che riguardano proprio, lo vedete, le elezioni. Movimento 5 Stelle, 11 eletti, ecco i grandi sconfitti, la pattuglia pentastellata e il centrodestra escludono Chiavaroli, Castricone e Cialente. Verso Roma, D'Alfonso, D'Alessandro e Pezzopane, tutti esponenti del partito democratico. Forza Italia, secondo partito in regione, male, liberi e uguali. Poi vedete di spalla l'articolo, il fondo con l'onda lunga e i successi locali dei 5 Stelle. E poi c'è l'analisi, più in basso, il governatore, chi amministra, poi paga pegno. In basso una notizia di e cronaca, Chieti ricatti alla ex con le foto hard in alto. Si parla di sport, vi dicevo soprattutto del Pescara, Pescara Epifani in campo, Zeman saluta la squadra. Poi Beach Volley, l'ortonese Nicolai secondo al debutto nel World Tour. E poi Serie C, Teramo carico di fiducia in vista del Sant'Arcangelo. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano. La città, vincono 5 Stelle e Lega, Disastro PD, all'uninominale, eletti Zennaro e Quagliariello, fuori Chiodi e Sottanelli, sperano Morra e Berardini. Perché bisogna dire tra l'altro che i risultati sono definitivi ovviamente, ma non c'è la certezza per quanto riguarda gli eletti. Ci sono ancora dei punti interrogativi, come si può vedere anche da questo titolo del quotidiano la città. E poi vedete i risultati, comune per comune, caso selfie a tradimento a Roseto. E poi Asterix, Quagliariello fa il miracolo a Teramo. Zennaro, vincitore, effettivo e morale. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere come i quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera, analizzano il voto. Un voto particolare per certi versi inatteso. Renzi non lascia subito. L'Ite nel PD ha annunciato le dimissioni. Il presidente del PD, dimissioni che arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Dimissioni dopo il nuovo esecutivo. Nessun patto con gli antisistema. Di Maio apre, confronto con tutti. Berlusconi dice, tocca al centrodestra. Salvini ho il diritto, dovere di governare. Nel Lazio, vittoria di Zingaretti, che si riconferma governatore. E a proposito di regioni, in Lombardia schiacciante il successo di Attilio Fontana, della Lega, che sarà il nuovo presidente della regione Lombardia, ottenuto il 49,7%, distanziando di oltre 20 punti Giorgio Gori, del centro-sinistra. Poi vedete nel Lazio, in quest'altro specchietto, Zingaretti, 33,4%, Stefano Parisi, del centrodestra, 30,9%. E poi in una giornata che ha visto tanti commenti politici, c'è anche una notizia grave di una tragedia accaduta a Firenze. Colpirò un uomo a caso, migrante ucciso, proprio nella città toscana, nel capoluogo toscano. Due anni fa, in un'altra giornata tragica, erano stati colpiti a morte altri due migranti. Andiamo a vedere Repubblica. Vedete Repubblica che apre in prima pagina con i nuovi colori dell'Italia. Davvero esplicativa questa cartina del quotidiano. La Repubblica dal rosso, della sinistra all'azzurro, targato Salvini, e il giallo 5 Stelle. Le conseguenze saranno profonde. Vedete il Nord Italia tutto in mano al centrodestra, intendendo ovviamente Forza Italia e Lega. macchie rosse nel centro-nord, soprattutto in Toscana e in Emilia. E poi vedete l'azzurro anche in molte regioni del centro-Italia. E poi tutto il centro-sud, invece, giallo. Il giallo è il colore del Movimento 5 Stelle. Anche la nostra regione, come potete vedere, è colorata di giallo, perché anche in Abruzzo c'è stata la netta affermazione del Movimento 5 Stelle che ha fatto praticamente il pieno nel sud, ad eccezione della Calabria. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano La Stampa. Metà gialla, metà verde, la rivoluzione italiana. Ovviamente si gioca anche sui colori dei vari partiti. Vedete i vincitori di queste elezioni, che sono Luigi Di Maio, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini, segretario della Lega dal 2013. Governo Di Maio cerca alleati nel PD. Renzi annuncia le dimissioni e pone il veto. Mai voti ai populisti. Salvini vede Berlusconi e dice, tocca a me. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore, perché ieri c'era anche qualche timore sulla tenuta dei mercati. Mercati che reggono all'effetto voto. Milano crolla inizialmente in mattinata, poi chiude a meno 42%. Le tensioni si scaricano sui titoli bancari. Lo spread balza fino a 143 punti, poi ripiega. E vedete la distribuzione dei seggi al Senato e alla Camera. E al Senato, partiamo dalla Camera, vedete centrosinistra 22,85, i liberi uguali 3,39, Movimento 5 Stelle 32,64, centrodestra 37%. E centrodestra è la coalizione, ovviamente, come potete vedere, che ha il maggior numero di voti, intendendo proprio Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e noi con l'Italia. Vedete anche la distribuzione dei seggi al Senato. Senato che è sempre stato decisivo negli ultimi anni, con liberi uguali 3,5%, centrosinistra 22,99, 32,22 per il Movimento 5 Stelle, 37,49 per il centrodestra, per gli altri partiti, 7,27 per cento. Siamo al Fatto Quotidiano, vedete il titolo piuttosto ad effetto del Quotidiano Il Fatto. Renzi uccide un PD morto, ma tutto intorno è fuggi-fuggi. Di Maio, pronti al Governo, contatti con minoranza dei democratici. Salvini non molla Berlusconi, non facciamo minestroni. Il manifesto Orgoglio e Precipizio, il titolo riguarda il PD. Renzi annuncia le dimissioni, ma non molla, dopo la disfatta del Partito Democratico, punito da un'altra sonora batosta. Il segretario si dice orgoglioso dei risultati di Governo e decide la linea, mai con i 5 Stelle, che però intercettano i delusi dei Dem. Il flop della sinistra colpisce la lista di Grasso, penalizzata dagli ex PD. Poi vedete in basso un richiamo che riguarda le elezioni regionali. Il Lazio resta a Zingaretti, dunque al centro-sinistra. La Lombardia alla Lega, perché dopo Maroni ci sarà Fontana come nuovo presidente. Il messaggero nazionale Renzi congela l'addio. Crepe PD annuncia le dimissioni, ma lascio, dice, dopo il nuovo esecutivo. Mossa per soppare intese con il Movimento 5 Stelle. Le proteste nei Dem, gelo di Gentiloni, Salvini, niente accordi strani. Di Maio, confronto con tutti. Vedete poi a centro pagina, vince Zingaretti, il Casolazio, ma la maggioranza è stretta. In alto, dobbiamo fermarci anche a vedere il titolo che riguarda la tragedia accaduta Domenica ad Udine, la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Oggi si terrà l'autopsia. Andiamo avanti, arriviamo al tempo. Vince Zingaretti, ma in merito di Pirozzi. Il tempo che titola, vedete, ora sei contento, i suoi pochi voti decisivi, scrive il quotidiano romano per far perdere Parisi, rovinata la straordinaria rimonta del centro-destra. Ma chi te l'ha fatto fare? Qui Prodest, dunque, il tempo pone queste domande a Pirozzi, che ha ottenuto il 4,7%. E lo vedete dai dati, se fosse il centro-destra andato unito alle elezioni del Lazio, probabilmente avrebbe, anche se di pochissimo, superato Zingaretti. Vedete Parisi 30,3%, Pirozzi 4,7%. Insieme avrebbero ottenuto il 35,1%, Zingaretti con il 33,9%. E' stato riconfermato presidente della regione Lazio. Libero, la resa dei tonti, perché la sinistra ha perso, PD e compagni hanno puntato per mesi sullo Ius Soli e sull'antifascismo senza fascisti e se ne sono infischiati dei problemi della gente. Un suicidio di Maio ha promesso a tutti i soldi, che non ha la Lega e Berlusconi in pole position, ma bisognerà capire a chi darà l'incarico di formare il nuovo governo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Vedete il quotidiano La Verità, Lega e 5 Stelle che è botto, crollo di PD e sinistra. Proseguiamo, avvenire, cambio di quadro, Movimento 5 Stelle, primo partito, centrodestra, prima coalizione ma senza maggioranza, Lazio vince Zingaretti, Lombardia affontana, crollo del Partito Democratico, Renzi si congela, staremo all'opposizione, dice l'attuale segretario del PD. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova, Renzi, addio a scoppio ritardato, lo sconfitto lascio dopo il nuovo governo, scontro aperto nel PD, niente manovre. E poi i vincitori, che sono Di Maio e Salvini, lo dicevamo prima, Di Maio dialogo con tutti, Salvini cerca i numeri per governare, ora tocca a me. 5 Stelle a caccia di consensi fra i democratici. E poi il mattino di Napoli, Di Maio apre, Renzi frena il PD, il segretario lascia, ovvero Renzi, ma dopo il governo, no ad Inciuci, Movimento 5 Stelle dialogo con tutti, Salvini dice tocca a noi. Vedete questo specchietto che possiamo osservare anche insieme, il rebus del governo politico, perché è davvero un rebus la formazione del nuovo governo, vedete lo specchietto, Movimento 5 Stelle, PD liberi uguali con 356 seggi, avrebbero la maggioranza, avrebbero un più 40, Movimento 5 Stelle e Lega insieme avrebbero 348 seggi, più 32, Lega invece con Forza Italia e Fratelli d'Italia, non avrebbero i numeri, e dunque la maggioranza alla Camera con 274 seggi e 42 mancanti, ancora peggio per un eventuale governo PD Forza Italia, 236 seggi con 80 seggi mancanti. Lo stesso dicasi per un'unione tra Movimento 5 Stelle e Liberi uguali, 232 seggi, meno 84. Al Senato il discorso è più o meno identico, solo un'unione tra Movimento 5 Stelle, PD e Liberi uguali, o Movimento e Lega garantirebbe i numeri per un nuovo governo che per il momento è in alto mare. Noi ci fermiamo per quanto riguarda l'edicola nazionale, torniamo al messaggero per vedere e leggere insieme le varie pagine di commento al voto nella nostra regione. Vedete il verdetto, Movimento 5 Stelle al massimo per il PD addio, sogno di governo. D'Alfonso aveva sperato un voto che lo portasse ad un ministero, la Lega arriva ad un passo da Forza Italia, malissimo, Liberi uguali, tutti i risultati. Tra l'altro ieri ci sono state molte voci critiche nel centro-sinistra, tra cui quelle anche dell'assessore regionale Donato Di Matteo, che avevamo intervistato nella nostra diretta elettorale di ieri mattina, proprio dinanzi alla sede del Consiglio regionale a Pescara. Allora io direi che possiamo andare a vedere il primo servizio, il primo servizio che riguarda proprio il centro-sinistra, i commenti nel centro-sinistra, l'analisi del voto proprio nel Partito Democratico e non solo, anche le critiche che ci sono state, anche le colpe che ovviamente si sono assunti i dirigenti del Partito Democratico e poi si guarda anche all'immediato o futuro a quelli che potrebbero essere i contraccolpi di questo voto anche a livello regionale. Possiamo andare a vedere dunque il primo servizio. Se il centro-destra tiene e resiste all'ondata, anzi allo tsunami pentastellato, conquistando due collegi uninominali, tutti all'ombra del Gran Sasso, con Martino e Quagliarello, il vero crollo, che è quasi un'apocalisse, è quello del Partito Democratico. Neppure l'impegno in prima persona del presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha potuto evitare una sconfitta che va oltre non di poco il dato già pessimo nazionale. L'assessore Donato Di Matteo non ha dubbi da Alfonso, deve dimettersi. Si deve dimettere, è un segnale serio di una persona che prende atto che lui ha perso, non è più quel leader che lui è impersonificato, ha creduto di rappresentare. Si deve dimettere e deve creare le condizioni perché perlomeno in questa sconfitta di una dimostrazione di umiltà, una dimostrazione di serietà e una dimostrazione una volta tanto di coerenza rispetto ai dati che sono usciti fuori. Massimo Cialenti è ancora più netto, invitando, anzi esortando, un repulisti generale nel PD a partire dal segretario. Auspico solo che il PD vada all'opposizione. Noi abbiamo bisogno di una vera cura disintossidante. E si faccia quello che non si è voluto fare, cioè un vero congresso che può durare due, tre, quattro, cinque mesi in cui si cominciano a dibattere i temi. E' proprio un vento, gli italiani hanno detto levatevi, questo è, levatevi non ne possiamo più. Ginobla invita tutti alla calma e a non sfasciare definitivamente un PD agonizzante. Io credo che, insomma, qualche volta non svolgere un ruolo di governo permetta una riflessione interna, una presa di coscienza, una maggiore umanità nel fare politica. Quando qualcuno dice magari che i grillini non sono conosciuti, in parte è vero, però che non facciano politica e che non ascoltino la gente e che non le incontrano, non è vero. Dunque questa è l'analisi del voto nel centro-sinistra. Arrestiamo il Partito Democratico, perché ieri ha parlato anche il segretario regionale Rapino, sconfitta senza attenuanti i dubbi del presidente della regione. Il capo dell'esecutivo non esclude di restare in Abruzzo e finire la legislatura con buoni risultati. Per il pezzo pane il risultato è frutto della rabbia verso il partito targato Renzi. Dunque avete sentito anche le critiche di Cialente, l'ex sindaco dell'Aquila, proprio al suo partito. Vedete vincitori e vinti, D'Alfonso la spunta, battuta la Chiavaroli, la grande pattuglia pentastellata sbarra la strada al sottosegretario, Big senza biglietto per Roma, anche Castrigone e Cialente. Allora, attraverso questo specchietto possiamo vedere gli eletti al Senato e poi gli eletti alla Camera. Vedete però che è scritto in basso dati non ufficiali, soprattutto per quanto riguarda il Senato, perché per il Senato ci sono poi le ripartisioni regionali. Allora, gli eletti che dovrebbero essere, usiamo dunque il condizionale perché non c'è ancora la certezza assoluta, per Forza Italia, Nazario Pagano e Gaetano Quagliariello, per il Movimento 5 Stelle, Alberto Bagnai, Gianluca Castaldi, Gabriella Di Girolamo e Primo Di Nicola, per il Partito Democratico, Luciano D'Alfonso. Gli eletti alla Camera, vedete l'onda gialla del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini, Andrea Colletti, Valentina Corneli, Daniele Delgrosso, Carmela Grippa, Daniele Torto, Gianluca Vacca, Antonio Zennaro, tutti parlamentari del Movimento 5 Stelle e poi Antonio Martino, Gianfranco Rotondi di Forza Italia, Giuseppe Bellachioma della Lega, così come Silvana Comaroli e poi in basso Camillo D'Alessandro e Stefania Pezzopane del PD. Le sfide di Pescara, il bis di Colletti e Vacca, Pagano in lista d'attesa, lo tsunami Movimento 5 Stelle non risparmia la provincia Roccaforte di D'Alfonso, il Governatore eletto per un pugno di voti, fuori Testa e la Chiavaroli, Guerrino Testa, candidato di coalizione del centrodestra, Federica Chiavaroli, sottosegretario alla Giustizia uscente, candidata con Civica Popolare della formazione che era al fianco del centrosinistra, formazione del Ministro della Sanità uscente, Beatrice Lorenzin. Vedete anche il collegio di Pescara per quanto riguarda la Camera e il collegio Pescara-Chieti per quanto riguarda il Senato. Possiamo andare a vedere perché i numeri dicono tanto, dicono probabilmente tutto. centrodestra ha ottenuto 55.323 voti con un percentuale del 34,06%, così ripartiti, Forza Italia 14,25%, Lega 13,69%, vedete che il risultato ha ottenuto la Lega anche nel collegio di Pescara, Fratelli d'Italia 5,33%, noi con l'Italia 0,79%, il centrosinistra ha portato a casa 27.796 voti, con il PD 13,88% e 22.542 voti, poi più Europa 1,88%, insieme 0,36%, Civica Popolare 0,97%. Vedete il Movimento 5 Stelle che è il primo partito nella nostra regione, 67.000 voti, 41,28%, poi Liberi Uguali con il 2,73%, dunque non arriva neanche a 3 la formazione di Pietro Grasso con 4.437 voti, poi gli altri 4,73% con 7.748 voti. Vediamo il Senato, il collegio Pescara Chieti, dato definitivo, vedete 918 sezioni su 918, centrodestra 253.889 voti e 36,38%, con Forza Italia che si conferma primo partito del centrodestra in Abruzzo, 110.000 voti con il 15,86%, poi Lega 97.000 voti, 13,93%, Fratelli d'Italia 33.000 voti, 4,75%, noi con l'Italia 12.871 voti ed una percentuale dell'1,84%, il centrosinistra 123.000, quindi praticamente il centrodestra ha ottenuto il doppio dei voti del centrosinistra, 123.052, dicevo, percentuale del 17,63%, totale, con 97.000 voti per il PD che si ferma a 13,97%, più Europa 1,66%, insieme 0,45%, civica popolare 1,53% e vedete il Movimento 5 Stelle, primo partito con 274.185 voti, sfiora il 40%, si ferma al 39,29%, poi Liberi uguali 17.826 voti, 2,55%, gli altri 4,1% con 28.765 preferenze. Andiamo in basso nel PD, processo alla sconfitta, rischio di contraccolpi in comune e provincia a Pescara. Di Matteo chiede la testa dei vertici, il sindaco di Pescara Alessandrini fa quadrato con i suoi, corsa difficile per le regionali. Ricordiamo che oltre alla regione amministrata dal PD sono targati PD il comune di Pescara e la provincia di Pescara con il sindaco Marco Alessandrini, il presidente della provincia Antonio Di Marco. Rivoluzione a Chieti del grosso del Movimento 5 Stelle trionfa, abruzzo al governo, ci pensiamo noi, secondo mandato in Parlamento e sbanca pure nel feudo di D'Alfonso perché del grosso ha ottenuto la maggioranza anche a Letto Manoppello che è il paese del presidente della regione. Parla il deputato uscente di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che dice centrodestra senza regia e candidature decise solo al fotofinish, critica dunque la posizione di Di Stefano. E poi in basso Castaldi, altro esponente del Movimento 5 Stelle, percentuali incredibili di Giuseppe Antonio. Ripartiremo, dice l'esponente di Noi con l'Italia. Il voto all'Aquila, Quagliariello, Noi Macchia Blu, in un mare giallo, il senatore batte Fedele e Cialente, prenderò una casa per stare qui la delusione del sindaco del Sisma. I leader hanno guardato l'ombelico. Possiamo vedere, come abbiamo fatto anche prima per il collegio di Pescara della Camera e Pescara Chieti per il Senato. L'Aquila alla Camera, centrodestra 42 e 46 per cento con Forza Italia che ha ottenuto il centrodestra in totale 60 mila voti. Forza Italia 24 mila si conferma primo partito con il 16 e 92 per cento. Poi Lega 17 e 69, Fratelli d'Italia 5 e 96, noi con l'Italia 1 e 97 centrosinistra. PD totale 25 e 420 preferenze con il 17 e 79 per cento. Dunque questa è la percentuale totale del centrosinistra. PD al 13 e 26 con quasi 19 mila preferenze. Poi più Europa 3 e 44 per cento. Insieme 0,62 civica popolare 0,46. Vediamo il Senato. L'Aquila la provincia centrodestra e scusate Movimento 5 Stelle la Camera ha ottenuto 47 mila 118 preferenze e il 32 e 98 per cento. Dunque in provincia dell'Aquila il centrodestra ha ottenuto più voti. Poi Liberi uguali 2,76 per cento. Gli altri 3,96. Senato l'Aquila provincia centrodestra 39,33 per cento con Forza Italia che è davvero di un soffio. Primo partito 15 e 85 per cento con 46 mila 611 voti. Guardate la Lega 15 e 81 per cento. Dunque davvero nullo il distacco 46 mila 478 voti. Poi Fratelli d'Italia 4,89. Noi con l'Italia 2,77 centrosinistra. Totale 17,16 per cento. Con il PD che arriva al 14,33 più Europa 1,66 insieme 0,50. Civica popolare 0,66. Movimento 5 Stelle che ha ottenuto 108 mila 666 voti ed una percentuale del 36 e 96. Poi Liberi uguali 2,50. Gli altri 3,99. Avezzano subito scossone in municipio. Valle Peligna. La senatrice non è la di Nino. Ieri il sindaco di Avezzano De Angelis ha azzerato la giunta e mercoledì comunicherà le proprie dimissioni. Le sfide di Teramo. Il prossimo sindaco sarà dei 5 Stelle. Berardini canta vittoria e aspetta un seggio. Primi dice con il 40 e 58. E' pronti a governare. La Lega sferza i vertici di Forza Italia. Ora basta lotta interne. Fate chiarezza. Vediamo anche la Camera con Teramo provincia. Centrodestra 60.500 voti e il 34,06%. Forza Italia in provincia di Teramo non è il primo partito perché ha ottenuto il 12,18%. La Lega invece è salita a 13,84%. Centrosinistra totalizza il 18,49% dei voti con un totale di 32.847 preferenze, poco più della metà del centrodestra. PD 15,48%, più Europa 1,30% insieme 0,40%. Popolare 1,30%. Vediamo il Senato Teramo provincia. Centrodestra 39,33%. Centrosinistra 17,16%. Movimento 5 Stelle 36,96%. Liberi uguali 2,50%. Gli altri 3,99%. per cento. Giulianova espugnate le zone rosse dall'annunziata a case di Trento. Caduti miti e roccaforti. Movimento 5 Stelle primo partito davanti a PD e Salvini. Delusa Elisa Braga di potere al popolo. Qui è davvero finito tutto. E' in Val Vibrata ai pentastellati. La Val Vibrata va ai pentastellati di Zennaro. Il pass per Roma. Allora possiamo fermarci per qualche attimo. Abbiamo esaurito almeno dalle pagine del messaggero la lunga pagina politica con tutti i risultati, tutti i dati, i nomi degli eletti. Ora ci fermiamo come detto per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Seconda parte di mattino 6. Siamo sempre alle pagine del messaggero. Vediamo anche qualche notizia dalle cronache delle province. Partiamo da Pescara. Carte clonate. Un pescarese nella banda. C'è anche un uomo residente in provincia. Tra i sette arrestati nell'operazione Red Card. Aveva un ruolo chiave nella maxitruffa. Una serie di transazioni sospette segnalate alla finanza. Portato alla luce un giro economico da un milione di euro. E poi musica e solidarietà Casail con Antonella De Angelis a Pescara. Un concerto per la vita. Poi vedete in basso lavori domani alla stazione centrale di Pescara. Rischio in Gorghi in via Ferrari. Ancora la pagina di Pescara del messaggero. ACA perdite su Corso Vittorio. Iniziati i lavori in via del Santuario. Poi il cantiere si sposterà in centro. E poi Medea. Dal mito a oggi una storia buona per raccontare l'8 marzo. Lo spettacolo domani del Matta Festival. E poi siamo alla pagina dell'Aquila. Del messaggero Munda. Due mesi per sperare. 2000 visitatori da inizio anno. Il Museo Nazionale d'Abruzzo inizia con un incremento cospicuo di affluenza. In programma ora una serie di iniziative. Prevista la presenza dello chef Vissani. E poi sul Mona. ZTL in centro. L'assessore apre alle modifiche degli orari. E poi l'inchiesta. Mazzette per Palazzo Carli. Coinvolti. Dipendenti pubblici in basso. Avezzano. Cam. Ancora nubi sul futuro. Nuove polemiche. Siamo alla pagina di Chieti. La cronaca. Riccati hard. Torna con me o mando le due foto a tutti. Un giovane di 23 anni. Imputato per stalking e tentata violenza privata. La vittima. La sua ex. SMS. Telefonate a qualunque ora del giorno e della notte. E poi. Scandolo delle lenzuola. L'ASL chiede un milione. Siamo a Lanciano. Il Gup Valente. Intanto ha stralciato la posizione dell'imputata. Tiziana Spadaccini. A Ortona. Video sorveglianza nel porto. I controlli della Capitaneria. Vasto. Furti in auto. Consales. Evitate, dice il comandante dei Carabinieri, di lasciare oggetti. Siamo alla pagina di Teramo. Chiude la Polizia Postale. SAP. Chi ferma i terroristi? Il segretario Raiola lancia l'allarme. Abbiamo i poliziotti più anziani d'Italia. Il paradosso. Arrivate le volanti nuove. Mancano gli agenti che le guidano a Pineto. Spinge la figlia dei vicini per le scale. Condannato. Non solo bionde. Birra nel Teramano. E boom di imprese. E poi la cronaca giudiziaria in Val Vibrata. Sofia morì all'ospedale. Il giudice assolve i pediatri. In basso a Mociano Sant'Angelo. Nuovo colpo della banda del buco. Rubata la cassaforte di Euromobili. E poi intesa Università e Carabinieri. Oggi la firma per i nuovi corsi all'Università di Teramo. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo però andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Vedete pagina 2. Speciale elezioni. Vincono 5 Stelle e Lega. Sconfitti tutti gli altri. Risultato disastroso per il PD che va molto peggio della batosta rimediata a livello nazionale. Vedete anche lo specchietto con i voti riportati da alcuni esponenti del Teramano con Antonio Zennaro che è stato eletto e ha preso 72.070 voti, 40,58. Lucrezia Rasicci con 60.500 voti, 34,6. Poi Sandro Mariani del PD 32.847 voti e il 18,49%. Poi Stefano Alessiani con il 2,49% e 4.426 preferenze. In basso occhio di sconfitto ma non battuto ci saremo. È un punto di partenza. L'ex governatore mette subito alle spalle il risultato e guarda le prossime elezioni comunali e regionali. Vedete quest'altro specchietto ancora con candidati, voti e preferenze. E poi Zennaro vincitore effettivo e morale con 72.000 voti ha fatto il 40,6%. Rasicci staccata. Mariani eclissato scrive il quotidiano La Città. E poi in basso falciato dal quorum Sottanelli resterà in campo. La maggioranza degli abruzzesi ha dato fiducia ai 5 Stelle e alla Lega dice l'esponente politico di centrodestra. Siamo al Senato. A Roma vanno sia Quagliariello che D'Alfonso, il primo da vincitore all'unio nominale, il secondo che puntava al Ministero solo in virtù del posizionamento in lista. Vedete anche qui voti e preferenze. Gaetano Quagliariello eletto 115.630 voti. Poi 17.16%. Guido Iapadre 250% con 7.372 voti. PD a metterci la faccia il segretario Minosse. Mariani non pervenuto. Noi abbiamo ascoltato proprio il segretario provinciale del Partito Democratico Gabriele Minosse che parla proprio di questo risultato ai nostri microfoni deludente per il Partito Democratico. Una partita difficile e deluso? Sì, forse difficile sapevamo tutti. In questo momento è veramente difficile per il Partito Democratico, soprattutto perché si è governato questo Paese in un momento molto difficile. Governiamo anche la Regione, diversi comuni, in un momento veramente difficile, con una serie di tragedie. Però così non me lo aspettavo sinceramente. Però si chiude una porta, si apre un portone, quindi ricominciamo a discutere per le amministrative al Comune di Teramo. Ma sì, certo. Poi la politica è così. Poi bisogna sempre rispettare il cittadino che vota. Quindi ha deciso così, va benissimo. Si ricomincia, si rifà un progetto politico nuovo e non possiamo neanche stare tanto a piangerci addosso perché abbiamo diversi comuni al voto, tra cui c'è il Comune di Teramo qui e quindi non possiamo noi perdere tempo. Voi come vi state riorganizzando come Partito Democratico? Noi avevamo già iniziato a fare dei ragionamenti con la coalizione e tutto quanto. Poi ovviamente con queste elezioni un po' è saltato tutto. Vedremo, adesso faremo l'analisi del voto in questo senso, ma immediatamente ragioneremo sulle città dove andremo al voto. Noi siamo il popolo delle primarie, vedremo quello che c'è da fare. Certo non abbiamo tanto tempo, quindi non possiamo neanche stare a perdere troppo tempo perché probabilmente a giugno, a primi giugno si voterà. Ma i meccanismi territoriali, locali, sono diversi da quelli nazionali? Beh, noi diciamo siamo un pochettino più democratici, vogliamo dire questo, perché noi comunque se ci sono delle persone, delle figure che siano dirigenti o no, che vogliono fare le primarie, noi da statuto le dobbiamo accettare. Deluso da queste elezioni, da questi risultati? Beh, in linea di massima erano un po' i dati che emergevano da una campagna elettorale difficilissima, da una campagna elettorale soprattutto per noi, start up della politica, un simbolo nato 15 giorni prima della chiusura delle liste. Il risultato non è di quelli che entusiasmano. Il mio risultato invece è stato un risultato stratosferico, sono arrivato secondo in assoluto in Italia, primo di me arrivato al collegio di Avellino, De Mita, per cui insomma mi ritengo soddisfatto di quello, della mia presenza sul territorio, la mia, diciamo, essere continuamente vicino alle persone è stata premiata, tra virgolette, in un momento di disastro, diciamo, di carattere generale. Come continuerà la sua carriera politica? Beh, io continuerò a lavorare come fammi fatto, col cuore che metto in tutte le cose che faccio, con il sentimento alla pari col cittadino che incontro, mai di superbia e soprattutto mi ritengo un soldato della politica, quindi continuerò a stare in trigea fino a quando non finirà, diciamo, tra virgolette, la mia esperienza politica e spero che devi ancora tanto, se non sono soddisfatto, le testimonianze di affetto e anche vedere anche la gente magari e essere dispiaciuta per la mia non elezione ti fa anche commuovere, perché nel senso fai capire quanta gente ti vuole bene. Queste le dichiarazioni anche di Giorgio D'Ignazio che è sceso in campo con la formazione politica civica popolare del Lorenzin. Siamo sempre alle pagine del quotidiano La Città, Asterix, Quagliariello, il miracolo al sud, il senatore di Noi con l'Italia tra i pochi eletti nel centro-destra. All'uni nominale, allora noi nel prossimo servizio andiamo a fare il punto e l'analisi del voto proprio nel centro-destra che tiene nel Paese e tiene anche nella nostra regione. Il centro-destra in Abruzzo tiene e in due collegi contrasta e batte l'ondata del Movimento 5 Stelle. La coalizione si attesta quasi al 36% alla Camera dei Deputati e oltre al 37% al Senato. Il dato che si evince è quello di Forza Italia che rispetto al trend nazionale in Abruzzo tiene dietro la Lega di Salvini in entrambi i rami del Parlamento. Un risultato che non può non soddisfare il coordinatore regionale azzurro, Nazario Pagano. Forza Italia, come hai appena detto tu, resta il primo partito della coalizione, anche se la Lega è andata molto bene e questo ci ha consentito di essere molto competitivi e il centro-destra oggi sicuramente o è la coalizione in testa o comunque è alla pari più o meno col Movimento 5 Stelle, cosa che ci consentirà di affrontare le prossime elezioni regionali davvero con la possibilità, anzi non dico la certezza ma la convinzione di vincerle. Alfonso si è candidato al Senato per il suo partito, si è stato eletto come penso, credo che sia giusto e opportuno che si dimetta. Ho sempre detto che sul 37-38% la coalizione sarà il primo partito, poi che il Movimento 5 Stelle che fa un risultato eccellente io già me lo immaginavo perché fanno la politica del cittadino. Ma è passata l'amarezza per la mancata ricandidatura, Senatore? Ma guarda, quello a me non c'è problema, è solo che i miei fans che da tutta Italia, dal nord al sud Italia, ma specialmente anche qui in Abruzzo, sono più amareggiato di me. Vittorie tutte sul fronte aquilano, con Antonio Martino che all'uninominale alla Camera dei Deputati con il 42% alla meglio sul candidato pentastellato Giorgio Fenele, tenuto dietro di 10 punti percentuali. Staccatissima invece Lorenza Panei della coalizione di centrosinistra, più che doppiata dallo stesso Martino. Quale impegno si sente oggi dall'Aquila di garantire agli aquilani? Non solo agli aquilani ma a tutti gli abitanti del collegio, gli marsicani, gli abitanti dell'Alto Sangro, gli abitanti della Valle dell'Aterno, gli abitanti di tutti i 90 comuni del nostro collegio avranno per me una importanza vitale e continuerò il lavoro che negli ultimi 30 giorni ne abbiamo fatto nei giorni a seguire. Nell'altro ramo del Parlamento al Senato Gaetano Quagliariello con quasi il 40% vince sulla candidata del Movimento 5 Stelle Emanuela Papola che si attesta al 37%, sconfitto nettamente l'ex sindaco del capologo Massimo Cialente della coalizione di centrosinistra al 17% dei consensi. Dunque in una regione a fortissima connotazione grillina il centrodestra strappa due seggi importanti all'uninominale in una tornata elettorale comunque contrassegnata dal vantaggio nazionale dell'asse Salvini-Berlusconi-Meloni. Anche se sui rapporti di forza adesso a Roma si aprono scenari completamente nuovi. E diceva Jacopo Forcella nel servizio a Roma si aprono scenari nuovi soprattutto per questa vittoria del Movimento 5 Stelle e noi per chiudere proprio l'ampia pagina relativa alla politica andiamo a vedere le reazioni proprio nel Movimento 5 Stelle nel prossimo servizio. Se l'Abruzzo fosse l'Italia il Movimento 5 Stelle governerebbe da solo. Il paradosso rende l'idea della proporzione con cui i pentastellati hanno vinto le elezioni nella regione. Quasi cappotto all'uninominale presi 5 seggi su 7 e una messe di voti al proporzionale che vanno ad amplificare la pattuglia grillina che dall'Abruzzo arriverà in Parlamento. Certo aiutati dal vento nazionale ed europeo che soffia sulle vele dei partiti definiti dai più antisistema ma per stessa ammissione di diversi esponenti regionali del Partito Democratico oggi al governo delle istituzioni locali i grillini sono stati premiati per il lavoro fatto dagli attivisti sul territorio quasi casa per casa esulta il consigliere regionale Domenico Pettinari che sottolinea la sconfitta politica del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso. Il dato è la grande sconfitta del presidente D'Alfonso. Il presidente D'Alfonso è stato bocciato sotto tutti i fronti una regione Abruzzo ha dimostrato i cittadini abruzzesi hanno capito bene quello che ha fatto il regione Abruzzo tagli della sanità tagli dei trasporti e noi lo abbiamo sempre detto i cittadini abruzzesi hanno premiato il Movimento 5 Stelle hanno premiato il programma del Movimento 5 Stelle hanno premiato il modo di comportarsi dell'onestà del Movimento 5 Stelle dei valori sacrosanti che abbiamo sempre sbandierato. Sulla sponda aquilana stessa soddisfazione tra i grillini. La senatrice Enza Blundo non vuol sentir parlare di un voto di pancia ma spiega che è stato un voto ragionato quello al Movimento 5 Stelle. Il nostro Movimento ha dimostrato di essere vivo e veggeto di non essere per nulla distrutto o messo all'angolo anzi credo che questo voto non sia poi neanche del tutto di pancia come fu all'epoca perché credo che ci sia stato un voto ragionato di riconoscimento proprio dell'impegno dell'onestà del nostro lavoro in trasparenza e di tutto quello che abbiamo sempre promesso e poi concretamente mantenuto. E dunque questa è l'analisi del voto in Casa 5 Stelle. Grande soddisfazione. Noi lasciamo e chiudiamo definitivamente la pagina politica. Siamo alle cronache dalle pagine del Codidiano della Città. Teatro Romano. I terramani piace scoperto. Si moltiplicano critiche e sarcasmo contro la copertura proposta nei rendering dello studio. bell'uomo in basso il lutto oggi i funerali del cantante folk Luciano Gentili funerali che si terranno al santuario della Madonna delle Grazie e poi nono record festeggia 98 anni nell'urna la prima volta al referendum scelse era Repubblica domenica l'ex infermiere è tornato a votare per dovere civico. proseguiamo andiamo ancora avanti la rivoluzione urbanistica di Viviani siamo ad Alba Adriatica eventi e teatro alla stazione sviluppo verticale nuove aree di sosta Santomero l'imprenditoria Teramana piange la morte di Pompilio Di Ubaldo e poi proseguiamo ancora spostandoci a Giulianova e poi a Mociano Sant'Angelo Giulianova quattro giorni di iniziative in occasione della giornata delle donne dell'otto marzo e poi a Mociano Sant'Angelo ladri acrobati all'Euromobili la banda porta via 20 mila euro attenta all'assalto anche alla vicina banca in basso a Giulianova Rom denunciati per aver occupato l'alloggio comunale e siamo a Roseto aria tesa nel PD per il selfie a tradimento sindaco giunto in maggioranza si fanno fotografare con D'Alfonso d'urne aperte vendette in arrivo da Ginobler e già leggiamo qui dal quotidiano la città e poi cronaca dalla luce il primo figlio in ambulanza accaduto a Roseto a Pineto assessora furiosa con gli incivili tornando a Roseto Roseto si è confermata la fucina dei parlamentari anche per questa legislatura può contare su due onorevoli Bella Chioma e Corneli Bella Chioma segretario regionale della Lega e Valentina Corneli candidata nel Movimento 5 Stelle siamo alla pagina della cultura i buoni libri quelli che portano ad una crescita la neo edizioni di Coscioni e Biasella compie dieci anni dopo le candidature al primo strega adesso è in lizza a modus leggendi arriviamo alle pagine dello sport ma prima dello sport dobbiamo darvi una notizia che riguarda la cronaca e lo facciamo con l'ausilio vedete inquadrato il quotidiano online city rumors possiamo andare sotto e vedere un attimo quali sono le novità vediamo un attimo di recuperare questa pagina dal quotidiano city rumors vedete Giulianova omicidio Rapposelli arrestati Simone e il padre e figlio è successo questa mattina alle sei a Giulianova ora tra poco recupereremo la pagina di questa notizia per andare a leggere proprio la cronaca di questo fatto accaduto proprio nella mattinata di oggi attendiamo ancora qualche attimo e poi vi daremo qualche notizia in più di un fatto che si è verificato proprio questa mattina alle sei dunque poco più di due ore e mezza fa a Giulianova vediamo un attimo se possiamo recuperare questa notizia che riguarda la vicenda della morte della pittrice originaria di Chieti c'è ancora qualche secondo da attendere comunque la notizia è questa perché padre e figlio sono stati arrestati questa mattina per quanto riguarda proprio l'omicidio della pittrice di origine teatina abbiamo recuperato ecco qui la pagina di questa notizia possiamo andare a leggere anche questo articolo che è stato tra l'altro curato dalla nostra collega Ania Cantagalli allora svolta nelle indagini sulla morte della pittrice Renata Rapposelli leggiamo sempre dal quotidiano online city rumors questa mattina prima dell'alba sono stati arrestati Giuseppe Simone Santoleri padre e figlio i due sono stati prelevati dai carabinieri dalla loro abitazione di Giulianova ulteriori particolari saranno forniti in una conferenza stampa convocata ad Ancona alle 11 l'ex marito ed il figlio di Renata erano gli unici due indagati per l'omicidio della donna nelle ultime ore sono probabilmente rientrati agli investigatori riscontri del ris forse inerenti l'auto dei santoleri che hanno portato agli arresti di questa mattina alle 6 per gli inquirenti il corpo senza vita di Renata sarebbe stato trasportato proprio nel mezzo finito giorni fa di nuovo sotto sequestro dopo un tentativo dei santoleri leggiamo qui sempre da city rumors di rottamare la fiat Renata fu ritrovata ormai deceduta vicino al fiume Chienti a Tolentino nelle Marche e dunque giustamente vi abbiamo dato questa notizia notizia di poche ore fa che riguarda la vicenda proprio della scomparsa della pittrice originaria di Chieti ulteriori notizie questa mattina ci saranno alle 11 verranno fornite le 11 nel corso della conferenza stampa che si terrà ad Ancona e siamo le pagine dello sport restiamo al quotidiano la città Teramo sarà questa la volta buona dopo l'impresa dell'Eugani ora per il diavolo c'è l'esame della continuità la difesa 3 dona nuova solidità ed il ritorno di ventola è stato fondamentale dal Teramo al Giulianova che vede la serie D sempre più vicina la vittoria sul campo del Martinsicuro lancia i giallorossi a più 11 punti sulla seconda e dunque per il Giulianova è già iniziato il conto al rovescio ma noi parliamo del Pescara perché queste delle ultime ore sono state e questi ultimi giorni sono stati importanti per la formazione Bianca Azzurra perché c'è stato il ribaltone tecnico è stato esonerato domenica mattina era stato esonerato il tecnico Zeman ieri primo allenamento per il neo tecnico della formazione Bianca Azzurra Massimo Epifani che questa mattina sarà presentato alla stampa Epifani cuore e rilancio vedete primo allenamento per il nuovo trainer oggi la presentazione ufficiale Sebastiani presidente del Pescara dice è giovane e bravo ridarà entusiasmo ai ragazzi stimo Repetto e poi Zeman saluta la squadra mentre si allena al poggio agli ordini di del tecnico Massimo Epifani e poi il DS può tornare Giorgio Repetto che deve che sta risolvendo il contratto con il Teramo ma ieri per noi ha avvicinato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani al poggio degli ulivi prima dell'allenamento condotto da Epifani e mentre in quei minuti si trovava al poggio anche Zdenek Zeman dicevo il nostro Andrea Costantini ha avvicinato intervistato il presidente Daniele Sebastiani ascoltiamo state formalizzando sostanzialmente l'affidamento della squadra ad Epifani che comunque è già un tecnico sotto contratto sì sì sicuramente dopo questa seduta che oggi conduce perché chiaramente ci dobbiamo allenare e poi insieme decideremo di affidare la squadra a Massimo abbiamo già ricomposto lo staff e quindi sicuramente si andrà avanti con Massimo. Staff con Epifani, Aldegani e Mauro Esposito con di Battista la primavera? Sì sì per il momento si andrà avanti così il preparatore atletico ce l'abbiamo perché è stato con noi anche negli anni di Oddo ed era il preparatore nostro che è Armando Ciotti la briciosa rimane che è il match analysis della società e quindi rimane tutto così com'era. Senta Presidente uno sguardo al passato più recente si è consumato questo divorzio con Zeman forse con un paio di mesi e mezzo di ritardo si poteva intervenire prima qual è il suo punto di vista? No io penso che non si sarebbe nemmeno consumato il divorzio se il mister avesse fatto il dipendente normale di una società perché dopo la partita di Cittadella come società abbiamo convocato per la mattina per ieri mattina alle nove e mezza una riunione con lo staff e con i giocatori i giocatori c'erano lo staff medico c'era il mister e il suo staff non si è presentato e ancora peggio non è manco ripartito in pullman con la squadra ma è andato via per i fatti propri quindi ieri mattina sicuramente se avessi voluto comunicare l'esonero al mister non c'era bisogno di convocare anche i ragazzi e avrei comunicato punto e basta invece l'incontro di ieri mattina doveva servire per fare un po' di chiarezza per cercare un po' di dare una scossa a quest'ambiente all'interno perché mi sembrava e ci sembrava un pochettino spento però lui ha ritenuto così e quindi a questo punto chi non ci ama è meglio che sta da un'altra parte. Le orme di Francesco, di Oddo, di Bucchi possono essere ricalcate da Epifani e guidate una grandissima responsabilità peraltro. Io penso che un allenatore, un giovane allenatore che comincia a fare allenatore come Massimo che comunque ha già fatto delle esperienze tra i grandi e sicuramente una categoria inferiore ma esperienze ne ha fatte e sta guidando molto bene la nostra primavera non c'è una scienza esatta, ci sono squadre che hanno cambiato allenatore in questo campionato e hanno preso allenatori ben più blasonati di Massimo e stanno facendo malissimo, forse peggio di quelli che avevano e ci sono squadre che invece magari hanno preso allenatori sconosciuti e stanno facendo molto bene e in campo poi bisogna capire se si conosce il mestiere, se si ha una squadra buona poi bisogna lavorare e poi il campo dirà se Massimo può fare l'allenatore a certi livelli o non lo può fare. Inter in mono quindi? Ma no, Massimo va avanti fino a fine anno senza nessun problema. Siamo alla pagina che riguarda la Serie C, la Serie D e gli altri sport, sempre dal messaggero. in alto Teramo serve la stessa grinta con la Santa Arcangiolese, due gare consecutive per i Biancorossi domenica contro i Romagnoli e poi nel turno successivo sempre a Bonolis con l'Albinoleffe e poi il calcio di Serie D, Vastese, il patron Bolami è soddisfatto dopo la vittoria dei Biancorossi a Sulmona con i Nero Stellati e poi l'eccellenza Real Giulianova, in questo caso dopo il vertice proseguire in Coppa, davvero ad un passo la promozione in Serie D e poi il basket Francani, Roseto Fiducia con Lupusor e Casagrande e poi l'ultimo titolo che riguarda il World Tour di Beach Volley, l'ortonese Nicolai II a Fort Lauderdale. Siamo alle prime pagine per chiudere dei quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, chi governa, 100 esperti, ha giudizio per parlare, interpellati per dare un giudizio sulla lotta scudetto tra Juventus e Napoli, vince la Juve, maggioranza dei voti per i bianconeri. In alto, vedete Astori, oggi c'è l'autopsia, minuto di silenzio in Europa. E poi la Lega Calcio ha scelto Miciche presidente. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport, mercato cambia tutto, niente trattative quando si gioca, il 17 agosto e il 18 gennaio gli stop e poi rincorsa Iguain, Champions domani assalto Juve, al Tottenham, Milan difesa e Cutrone, Gattuso ci crede, Napoli avanti con Sarri, il piano di rinnovo, chiudiamo con tutto sport in 10.000 più Iguain, domani la Juve a Londra e poi in alto si parla del Torino, Cairo il divoratore di sogni, Cairo che è il presidente della formazione Granata. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8, io ringrazio Silvia Gentile Regia, ringrazio voi per averci seguito e vi rimando come sempre alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata. Buona giornata.